I miei cugini hanno un podere di campagna, a final di rero, sono contadini, ma hanno un podere bellissimo. È arrivato il prete a marzo, adesso è in giro un'altra volta, non parliamo dell'anno scorso, a benedire, ho dato la sua benedizione pasquale, poi il contadino lo accompagna verso fuori, sto prete si ferma e fa, eh che bel polaio che avete, quante galine, fanno molte uova, cioè molte galine fanno molte uova, ma le vendete tutte o ve ne avanza un po', vuole un po' di uova da portare a casa? Perché no? Beh ma si figura, il contadino gli fa un sacchettino di uova, tenga, grazie mille, molto gentile, e vedo anche i caponi, che bei caponi grassi, fanno voglia, eh? Mia mamma mi faceva sempre il brodo di capone, ho capito, le do anche un capone, dai via, gli dico questo capone, glielo dà, poi provo a portarlo via, ma sto prete non si arrende, senta ma vedo anche delle botti, ma fate anche il vino? Sì, abbiamo i vigneti, facciamo il vino, mi piacerebbe assaggiare il vino del contadino, due dita per curiosità, venga in cantina, dai lo porta in cantina, poi chiama sua moglie, Maria dammi una scodella e un cucchiaio, la moglie arriva con sta roba, il contadino versa un po' di vino nella scodella, poi dà il cucchiaio al prete, sto prete assaggia, buono il suo vino, mi piace, gradevole, allora guardi, gli do una bella bottiglia di bere a casa, grazie mille, finalmente va via, e la moglie gli fa, ma perché gli dati il vino col cucchiaio? Fa perché, se glielo davano il bicchiere, quando beveva, vedeva anche i salami, allora, no ma mille storie riguardano i ferraresi furbi, anche quella cena dei Lions che c'erano ospiti due tenori, Baldini di Ferrara, Busacchi di Bologna, anziani ma molto rivali nella loro lunghissima carriera, e li ho sentiti discutere, Busacchi, quello di Bologna, gli ha detto, allora Baldini, ti che ci fai, canti ancora? Ma sì, mi canta ancora, e ti con valla? Fa perché, io sono ancora in gran forma, sono andato in San Petronio, mi ha chiamato il Vescovo, ho cantato l'Ave Maria di Schubert, ho cantato talmente bene Baldini, che la Stato della Madonna si è messa a lacrimare, non scherzati, no, la Stato della Madonna piangeva, le pie donne intingevano i fazzoletti, te Puvrin, ma piang, Puvrin, anch'io canto ancora bene, sono andato al Duomo di Ferrara, ho fatto anch'io l'Ave Maria di Schubert, ho cantato meglio che te, lo impossibile, ho cantato meglio, ti dico, è venuto giù Gesù Cristo dalla croce, ho sceso dalla croce, mi ha messo un braccio sulla spalla e mi ha detto, lei sì che canta bene Baldini, mica Busacchi che ieri ha fatto piangere mia mamma, allora, tocca, tocca, si faceva un numero a caso, spero che non sia capitato anche a qualcuno di voi, e si diceva, se rispondeva una donna, nel primo pomeriggio era molto frequente, buongiorno signora, siamo della trasmissione Maghi della Cucina, vuoi partecipare a un quiz per vincere una pentola a pressione? Moshimi, dica pure, lei mi sa dire un altro modo per fare un nuovo sodo, oltre a quello di farlo bollire nell'acqua? Boh, no, non saprei, se lo metta nel culo, poi buttava giù, ti passavi un quarto d'ora, poi ritelefonavi, un altro possibilmente, o se non si azzardava cambiavo voce io, e dicevo, buongiorno signora, sono della SIP, stiamo facendo un'indagine sul numero privato dal quale partono delle telefonate con degli scherfi di cattivo gusto, vedo qui dal tabulato che hanno chiamato anche lei, è vero? Sì, non c'è mai problema che cretei, mi vengono a sedere, signora, cosa le hanno detto? Boh, hanno detto che ero un quiz, mi diceva una pentola, no, ma vorremmo sapere proprio la frase offensiva, qual è stata? Oh, hanno detto che per fare un nuovo sodo me lo devo mettere nel sedere, dico, ma signora, ma quanto tempo fa hanno chiamato, sarà un quarto d'ora, lo tolgo e è cotto, è lì, strada, chi devo fare un monumento a quello che ha inventato il navigatore satellitare, perché fino ad allora tutte le sere andavi in posti diversi, come fai? Ti dai un'idea più o meno con la cartina geografica di dov'è il paese, ma poi il dettaglio devi chiedere un'informazione, però tu arrivi, gambettola, entri in paese, vedi un uomo che passeggia in maniche corte con un cane al guinzaglio, fermi e gli chiedi, scusi, mi sa dire dov'è il teatro comunale? Come ti risponde? Non sono da qua, ma puttana vigliaca, ma perché ti prendi da Salerno, fai 800 km per venire a passeggiare il cane a gambettola, staccato, ma non è possibile, sempre non sono da qua, allora il navigatore invece ti risolve, a quei tempi c'era il tomtom, quello che si attacca all'accento di sigari, adesso siete i navigatori integrati nelle macchine, l'ho visto in una BMW, ti dà del voi e ti chiede anche per favore, davvero, per favore, fra 400 metri svoltate a destra, attenzione, fra 100 metri c'è una rotonda, ma ieri non c'era, l'hanno fatta stanotte, lui sa già le cose che, il tomtom mio era così, ti andavi, mettevi l'indirizzo, zitto, c'era la strada, intanto buttavi un occhio e non diceva niente, poi finalmente parlavi senti che diceva, eh, che dovevi girare a sinistra, Dio Bono, dice anche Dio Bono, eh, fino a Castelfranco, dopo comincia a dire, Dio canta, prendo un po' l'accento modernico, fa, se non ci sono i vigili fai inversione, una volta mi ha detto, secondo me siamo in zona, chiedi, a chi? Però, allora, ci mettono il campo sportivo, palcoscenico, poi ci danno come camerini, vecchi spogliatoi del calcio, dismessi, un piccolo edificio in muratura con una porta sbilenca e non c'era più neanche gli infissi nelle finestre, le finestre erano dei buchi nel muro e guardavano verso il pubblico, quindi lì dentro con la luce accesa non c'era una gran privacy, allora dico con l'organizzatore, in quel camerino lì va bene, ma ci vorrebbe almeno una tenda, provvederemo, benessum, l'anno dopo ci torniamo, apro la porta, dentro il camerino, vi giuro, c'era una tenda da campeggio montata, e io ho detto, cosa fai una tenda lì dentro? Favo pizzocchi, non rompa miti i maroni, l'ha chiesto a lei l'anno scorso, allora, io stavo per dirgli, guardi che intendevo una tenda alla finestra, e lui ha precisato che io oggi sono diventato scemo, sai, a montare quella tenda lì dentro, dico, allora, a uso e consumo dei tedeschi c'è l'isola d'acciaio, non so se mi è capitato di sentire quell'annuncio della motonave che si ferma a largo, motonave l'ore d'oro, a parte l'ore d'oro, per l'isola d'acciaio, David Onderland, Erba de Meister, Fartenfurter, Zimmerfraer, Apoteca, scappi su un cazzo, però il tedesco viene calamitato a rive, questi li rastrellano e li portano a vedere l'isola d'acciaio che è un traliccio delle estrazioni metanifere a largo, un bagaglio ruggine in mezzo al mare che non ci vede un cazzo da vedere, però il tedesco dopo un anno che lavora là in Germania, alla Cerie Krupp, alla Volkswagen, quando è ora di andare in ferie, non vorrebbe neanche darci, si aggrappa la pressa, non, non, Arbaiten, Arbaiten, lo strapano via di peso, va a fare il pugnato, arriva in Italia con ste Mercedes con quei colori assurdi, verde calgarella metallizzato, giallo arancione, i colori assurdi, si ferma, arriva alla pensione Viserbella, con la sua macchina, col copri sedili di pelo, il copri volante di pelo, che lui dice guarda che non sei mica in Alaska, sei in Romagna, il pelo si trova anche su piazza, ce n'è qua finché vuoi. Poi scende, e il romagnolo capisce che ha a che fare con un coglione, perché già gli può dare da mangiare quello che vuole, già uno che di sua volontà ti ordina una pizza col salame piccante e un cappuccino, capisci che puoi fare quel che vuoi. I tedeschi, i romagnoli, gli stanno facendo pagare tutti i danni di guerra, perché cosa sappiamo che questa sera per cena, il coniglio con le coffe, buono, gut, gut, buono, perché il tedesco può dire, non ha il senso dell'abbinamento nel mangiare, il tedesco ragiona che se la fragole è buona e la maionese è buona, fragole, ma lo vedi, il sandalo di pelle nera, intrecciata, non è mica brutto, ma se te mi abbini un calzetto bianco corto con un pompon verde, alfa caghera. Solo i tedeschi a tutt'oggi, ancora oggi, portano quei braghini da spiaggia di nylon, ma lo stesso nylon, proprio quello delle borsine della Coop, quelli a scacchi verde e marron, così, no? Con dentro la reticella, che quando ti siedi sulla sdraio c'è sempre un marrone che fa capolino fuori, no? Che poi, quando ti alzi d'improvviso, la reticella ti trà! Ti castri, cioè, non c'è un tedesco che non sia diventato sterile a venire in Italia, a forza di stracciarsi i marroni con la reticella. Insomma, li portano a vedere stisola e loro ci vanno contenti, non è che la pigliano una volta solo, perché l'uomo è contento che a bordo della motonave gli danno il pesce fritto e il tavernello. Il pesce, sappiamo, è surgelato, però loro vedono che l'olio da friggere viene pescato così in mare, a sfioramento con la padella, più fresco di così. La donna è ancora più felice perché là sopra, alla piattaforma, ci sono tre, quattro operai che stringono le manovelle, guardano i manometri e quando passa la nave con la musica, gli fanno i complimenti alle donne, gli operai, no? Oh, puttanassa! E loro dopo arrivano in spiaggia che si stimano, a me ha detto puttanassa! Ah, gut, gut! A me truiasa! Funtabà! Felicità! Contenti come del passo! Insomma, tornando a bomba, capisco che questo vecchio bagnino di cui forse vi siete già dimenticati, perché c'è quello che era l'aria sul... E' uomo di mondo, vado lì e gli dico, senta, ma quel nero l'hai messo al mare, non verrà a piovere? Metto un braccio così come dire, povero semo, poi dice, quando fa così, sfoga in mare! Potevo arrivarci anche da solo. Dopo un quarto d'ora, la tempesta del secolo, la grandina in spiaggia, pelato la pineta, la gente con gli ombreloni che scappava nelle cabine, nel bar, io ho cercato quest'ignorante tra la folla, scomparso. Io da allora, sono passati anni, spesso e volentieri faccio un passaggio al volo al bagno Charlie Brown, come entro, i ragazzi mi dicono, ehi Pissocchi, ma il babbo era lì adesso? Mai piovesto! L'impresario sarebbe quella persona, l'agente, quello che ti vende come il mediatore di bestiame, tu sei la mucca e quell'altro è quello che ti compra, e ci sono questi personaggi, alcuni sono persone brave, serie, che prendono la loro percentuale, 10-15%, altri sono dei veri delinquenti che raddoppiano i prestiti, raccontano che il posto è 10 km, invece è Cuneo, e purtroppo questo qui, il cui nome è la massima rappresentanza della disonestà intellettuale, morale di una persona, non è bello farne il nome, Renzo Borghi, l'agenzia a Borgo Panigale, in via Roma 27, over the rainbow, 0-51-40-16-27, e per darvi un'idea della sua etica professionale, faccio un esempio, un giorno gli telefona, lui ha questo ufficetto, il suo telefono è qui, il cellulare è di qua, dietro delle foto, insieme a personaggi più o meno famosi, c'è una bellissima che c'è lui abbracciato così a Celentano, molti anni fa, e Celentano che lo guarda come dire, ma chi c'è essere? E allora gli suona il telefono e c'è uno di un locale che gli chiede di Gianni Fantoni per una serata, Gianni Fantoni è quel comico di Ferrara, un mio amico, quello grosso che fa le faccine, lui dice, come no, Gianni Fantoni ce l'ho io in esclusiva, non mica vero, lo conosce di vista, sta in linea che lo chiamo subito, mette giù qua, prende il cellulare, lo trova, Gianni sono Borghi, ascolta, come sei messo il 21? Libero, quanto vuoi per una serata? Un mio amico, fammi bene, 2000 euro, come 2000 euro? Dai, un mio amico, fammi meno, fammi meno, è il prezzo quello lì, 2000 euro, considera che io i soldi, te li do così, black, vediamo di capirci che per telefono non voglio parlare chiaro, fa sì, immagino che anche quello della finanza che sta ascoltando non ha idea di che cosa volevi sottintendere con questo black, fa no, no, sono 2000 più IVA, va bene, aspetta, chiede 4000, lo so, è un po' caro, aspetta, aspetta, dicono che è troppo, fa guarda che ti ho sentito che hai chiesto 4000, e allora vorrei farmi prendere un caffettino anche a me? Come cazzo dovrei prendere? A Buenos Aires il caffettino, perché la donna italica, lo dice l'Istat, vive mediamente sette anni più dell'uomo, e non è che voi donne vivete più a lungo perché avete più salute, e che siete voi a portare a prematura scomparsa questa povera creatura innocente, ma questo povero uomo va in pensione da un giorno all'altro, si trova a passare otto, nove ore, tutti dè, con un gendarme austriaco che atlassa a far niente, io lo vedo già adesso, la domenica, quando c'è la Formula 1 in tv, alle due, lasagna, arrosto, zuppa inglese, divano, al terzo giro è già chiuso gli occhi, culato da questo... senti come aiuta, è la ninna nanna, ti dici, ormai la partenza l'ho vista, sono tutti in fila, chiudo un po' gli occhi, tanto non mi addormento mica, poi se capita qualcosa lo dicono a guarda, raiconen si ferma i box, era il pugnato, raiconen si ferma i box, e aspetta bene, va là che faccio due passi per caso, non mi sfregare il pavimento, quelle suole lì di para, metti le pedanine, aiutami a smontare le tende, vai a vuotare il rusco, perché dobbiamo andarci sempre noi a vuotare il rusco? Io guarda, se vedo una donna con un sacco in mano vicino ai cassonetti, so che è una vedova, allora l'uomo le prova tutte pur di sfuggire a questa situazione domestica, quante volte vi sarà capitato di prendere un'autostrada, una superstrada dove ci sono i cavalcavia? Se non l'avete mai fatto, ogni tanto guardate su sul cavalcavia e vedrete che spesso c'è la rete, una bicicletta appoggiata e un uomo attaccato alla rete così, che guarda a passare le macchine. Avrà una vita triste a casa sua uno che si riduce su un ponte a guardare le macchine? E non c'è mica la corsa, è martedì mattina, c'è la gente che va a lavorare. Io abito al quartiere Barca, a Borgo Panigale, tra Borgo e Reno, c'è il ponte sul Reno, devo ammettere che ci sono andato anch'io, stamattina a vedere il Reno che era bello in piena, ma sai quanti eravamo? Neanche Bologno-Udinese. C'era un casino di gente così sul ponte, giù per i largini, da tutte le parti, cantieri, le prova tutte pur di stare fuori da casa, che ha una cantina in garage, sai quanti c'hanno delle officine specializzate in garage, che li vedi la notte con la lucina fiocca che fanno la gabbia per i canarini in bambù, che scapperebbe un capone da dentro quella gabbia lì, che non sta insieme neanche col filo di ferro, poi al brico, al castorama, così, davanti allo scaffale della boss, la sega circolare da banco, la compro, compro degli attrezzi che non ho mica un'idea, facevo il postino, il bancario, dopo lo senti là in garage, puttana vigliaca, si amputa le falangi, si perfora l'intestino, truccioli incandescenti, gli prende fuoco i capelli, allora gli amici del bar tentano il salvataggio in extremis, gli spiegano una faccenda, lui va a casa della moglie, gli dice, ascolta sai che quei ragazzi del bar mi ha deciso all'ultimo momento, partiamo, facciamo un piccolo pullman, andiamo tre giorni a caccia in Romania, diciamo così, tutto in giacca e cravatta, perché che so io, e il fucile dov'è? Si noleggia là, questo silenzio che è caduto non vorrei aver sputtanato qualcuno, vuol dire, c'è anche chi va a caccia davvero, per l'amore di Dio, chiaro che quando uno ti torna dopo tre giorni con un erpes terribile, l'acqua del pozzo, unica preda, un'anitra, già pelata, col bolino conad qua sotto, capisci che è andata puttana, però ormai dai via, ultime cartucce, perché dopo rimane un'unica alternativa, che è l'orto comunale, avete gli orti che non ronano? Io ce li ho vicino a casa mia, sono proprio vicino al fiume, adesso non so se ci sono ancora, e stanno là, tutto il decchio, carote, fassionicardi, ogni tanto passa uno con un cannelupo, e fanno dei dialoghi meravigliosi, io ho sentito un dialogo una mattina indimenticabile, nonno numero uno, seduto su una panchina, fuori dall'orto, quelli in semi libertà, che possono allontanarsi, ma non tantissimo, perché hanno la cavigliera elettronica che suona a casa se per caso si allontanano troppo, fisso il nulla con la sua bella camicia di flanella da boscaiolo alpino a scacchi rossoverdi, gilet di lana, braga di fustagno, beretto in testa, 28 luglio, 48 gradi, non fa una goccia di sudore immobile così, un battito cardiaco al minuto come i fakiri, arriva il suo amico, quello con le mani dietro, quello che lo sforza più grande della sua giornata è questo, faccio vedere, il cambio mano, poi c'è quello con la bicicletta a mano, mai salito sopra, c'è il nylon e il selino, io ne conosco uno, l'hanno venduta senza catena, non se ne è mai accorto, sempre girato così, con le sport attaccate al manubrio, ma il più tipico è quello che va a vedere i lavori in corso, quello apre la finestra all'alba, prende un respiro, sente odore di terra mossa a un chilometro di asfalto a tre, parte da casa già facendo così, arriva sul posto, si è messa, niencion, marruquen, voglio fare un caso, ma poi alle otto arrivi, operaio, alle otto arrivi, vai in fondo alla buca, con la tua cassola, comincia a fare una canalina, e man mano che ti sposti, c'è un'ombra che copre, che cassa è, le clisce? No, è un nonno che ti dice, chassercat, cosa vuoi che ti risponda? clavacchetto, sorella, ma nonno non si arrede mica, ah, tan bel da scavarla, stamirà bel, mi sorella, scava, scava, lei non voleva vari parenti, perché aveva capito che non è mica vero quello che da piccolo ti dicono, devi diffidare degli sconosciuti, sembra vero, ma guarda un telegiornale, c'è un delitto, otto volte su dieci, chi è stato? Il marito, il convivente, la mamma, l'ex fidanzato, i vicini di casa, gli sconosciuti, si fanno i cassi loro, sono i parenti che ti ammassano, mia nonna lo sapeva, invece si teneva fuori dalla sua vita con un metodo semplice e infallibile, te bastava che non la vedevi da 15-20 giorni, quando la andavi a trovare, la prima frase che ti diceva era sempre questa, ciao, set, chi è morto? Ah, diventare vecchio è un brutto lavoro, sai, è come se l'organismo si spessi in due, da questo funziona più niente, la vista calida, i denti calda, nell'udito debole, i bronchi, ma da qui in giù, compagna una ragazzola, come una bimba piccola, un pezzo d'osso, piccola, piccola, ed è un mondo difficile per noi anziani, pieno di maniaci, molestatori, l'altro giorno tornavo dalla spesa con la mia borsina della coppia, appena entro nel vuttore del palazzo, mi è arrivato dietro un uomo, mi ha spinto nell'angolo e ha cominciato a mettermi le mani giù per addosso, dentro il reggipetto tostava, poi diceva dove hai i soldi, dove hai i soldi, sì, dentro le mutande, fin là in fondo, dove hai i soldi, nel sedere, io dei soldi non ne avevo, alla fine gli ho fatto uno segno, poveretto, perché mia sorella le ha telefonato il maniaco, era lì tranquilla, prende su, di là c'era uno che il feva, ah, 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 solo che mia sorella ha l'asma e di conseguenza gli rispondeva, ah, 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 e le qua insisteva, ah, ah, e mia sorella, ah, ah, e dopo un po' lui qua le ha detto, oh, ho chiamato, io hai chiamato te, no, no, ok, no, 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 Grazie.